Consigliere Pignoli, oggi in conferenza stampa lei ha denunciato una problematica che riguarda il distretto ASL di Viarieti a Pescara, lunghe file e disagi per i tanti cittadini, per i tanti utenti che si recano quotidianamente presso Viarieti. Le persone bisognose per essere senti da prestazioni sanitarie ASL hanno bisogno di un timbro della ASL stessa che li dispensa appunto al pagamento del ticket, questo avviene ogni anno nel mese di aprile. Siccome l'ASL di Viarieti ha destinato a queste povere persone, povere in senso lato, a queste persone bisognose, soltanto ed esclusivamente tre giorni a settimana, martedì, mercoledì e giovedì per due ore, si è creato quello che si poteva immaginare. Subito ho interessato di questa cosa la segreteria dell'assessore, il quale prontamente, devo dire, e ringraziando anticipatamente, ha deliberato ieri in giunta regionale che non bisogna più recarsi presso l'ASL di appartenenza per avere l'esenzione se esiste ancora lo stato di giustizia, ma vale il timbro effettuato l'anno precedente. Quindi con grande soddisfazione posso annunciare la risoluzione anche di questo problema. La cosa che mi spiace è che purtroppo di queste persone, e mi posso vantare di questo, solo il consigliere Pignoli se ne interessa durante l'anno, gli altri politici di questa amministrazione se ne interessa di queste persone solo e esclusivamente al ridosso delle elezioni chiedendo il voto e poi scomparendo. Io come vedete ci metto la faccia 365 giorni all'anno per 5 anni nel mandato. La mia porta, e voi lo sapete, è sempre piena di gente bisognosa che ha bisogno anche e solo di essere ascoltata per uno sfogo principale. Questo lo faccio con gioia perché questo è quello che mi ha delegato la gente a fare ricordando che sono stato il terzo più votato a Pescara con oltre mille voti di preferenza e che questo sindaco che io non riconosco ormai dall'inizio della legislatura non ha voluto premiarmi con una rappresentanza ingiunta né a me né al mio partito.